E ci spostiamo ad Alcamo. ABC critica l'amministrazione sulla gestione dell'emergenza idrica che continua a creare disagi ai cittadini alcamesi. Un comunicato di ABC che critica il livello gestionale della situazione dell'acqua ad Alcamo da parte dell'amministrazione. Sì, abbiamo parlato di caos gestionale perché nella nota vicenda delle problematiche del disservizio dell'erogazione di acqua nei cittadini di Alcamo si è unita la problematica delle comunicazioni che sono arrivate in maniera tardiva ma soprattutto anche errata ai cittadini. Ancora oggi sul sito del comune di Alcamo si parla di erogazione a cinque giorni quando molte famiglie hanno ricevuto poca acqua al decimo giorno e altre ancora non le hanno ricevute con disservizi pazzeschi, con pranzi natalizi annullati e quant'altro. Questo chiaramente noi lo evidenziamo perché in una situazione drammatica nella quale siamo, che io definirei assolutamente emergenziale, non ci si può permettere il lusso di avere una comunicazione, comunque un'informazione alla città che non è perfetta. In considerazione del fatto che purtroppo evidentemente si crea un danno nel danno. In questo senso, per esempio, potrebbe essere utile prevedere un'erogazione, visti i problemi che esistono oggi a sette, otto giorni, ma che però sia certo, che garantisca un accumulo d'acqua tale da poter consentire ai cittadini di poter avere una quantità d'acqua degna e sufficiente quantomeno per affrontare l'emergenza. Beh, in questo noi riteniamo che l'amministrazione possa fare di più e meglio. E quindi è una critica a livello gestionale della situazione generale, non solo per quanto riguarda il comunicato specificato Natale, determinati giorni. È una critica più ampia? Beh, sì. È chiaro che il fatto che si siano verificate queste problematiche nel periodo natalizio aumenta il fastidio della cittadinanza. Non c'è dubbio che l'amministrazione sta provando a fare degli interventi a medio e lungo termine sul problema acqua, molti dei quali, fra l'altro, suggeriti anche dalla nostra mozione di indirizzo con ben 16 punti. Ma noi ci siamo focalizzati sul problema della gestione. Mi faccio anche dire un altro aspetto. Siamo di fronte comunque a una situazione emergenziana. Quindi noi, per quanto minoranza, in maniera propositiva, così come abbiamo sempre fatto, stimoliamo l'amministrazione affinché si possa affrontare questo argomento, cioè dell'emergenza che noi viviamo, attraverso il coinvolgimento di enti sovordinati a noi che possano dare sollievo alle dinamiche che stiamo vivendo, attraverso innanzitutto, anche e soprattutto, una comunicazione migliore, efficiente e più puntuale. L'amministrazione non chiede l'emergenza. Perché non la chiede? Mi siete dato una risposta? Io non so e non posso leggere gli elementi degli amministratori di Alcamo, degli assessori e del sindaco. A nostro modesto avviso c'è e va immediatamente affrontata.